Com'è la forma? Sì dai, ieri purtroppo sono in due cadute, in una mi sono dovuto fermare, però la condizione è buona, oggi è un'altra buona opportunità e ci proveremo. Oggi che aspetti un'altra volata? Oggi sì, in teoria si arrivi in volata, però sai è sempre un percorso molto selettivo, dipende dal vento, ma ci proveremo ad arrivare a un gruppo ristretto. Sì, c'è una volata al finale, come è l'organizzazione della squadra? La squadra è molto buona, abbiamo visto ieri compatta, hanno fatto un buon quarto posto e c'era davanti Dylan e Ausle, perciò oggi spero di arrivare con loro e di fare un buon treno. Grazie mille, bocca al lupo! Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie.